Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Sì, tutte quelle buste gialle erano dell'S Lunga? Ah, le pentatute sulla pubblicità. No, scusami, perché Sermonti, S Lunga. Stai d'accordo? Con Salvini, stai d'accordo. E vedi che abbiamo trovato? Sì, certo, sono buonaccini io, come tutti sanno. De certo pari assomigliante. Allora, scusate, voglio ringraziare tutti.